Covid-19 sono 1.217 i positivi di oggi in Calabria, 6 le vittime. Energia, occhiuto, comunità rinnovabili sono un'occasione per la Calabria, il piano regionale è troppo datato, ha detto il Presidente, verrà integrato. Cosenza, la vita non è un gioco, l'ASPA affronta il fenomeno della ludopatia in un incontro. Morano Calabro, l'orchestra sinfonica di Cosenza, aperto i 30 anni dell'allegra ribalta, la musica di Beethoven ha incantato il teatro pieno.